What is the world? Happy to you! Pente ci vincolavano, lavoravano per loro, anche sabati, quindi avendo un contratto che faceva in modo che dovevano lavorare tutti i giorni alla settimana, che era una cosa saltuare doveva essere. Pente si trova ad Acilia, a Dragoncello, questa ditta, al F81, e Pente ci hanno costretto, io ho addirittura registrato Pente, è una riunione che c'è stata, la cabetta ci hanno costretto, diciamo quasi minacciato appunto, di non parlare e appunto non doveva neanche opporci alla loro dittatura, tra virgolette, e appunto dovevano stare alle loro regole e lavorando tutti i giorni che loro volevano, piuttosto che mai riprenderci i giorni e lavorare appunto noi tanto quanto potevamo o volevamo. E quindi appunto io ho smesso di lavorare per loro, tanta gente ancora continua a lavorarci, però ancora continua a fare questi ottrusi. Queste ingiustizie, se uno va lì magari sono anche coperti perché so che erano… E i sindacati? I sindacati, più che altro so che sono forse imparentati o puncano amicizie appunto nelle forze dell'ordine, non so io che sono quali, però comunque sono ammanicati. I sindacati sono imparentati con le forze dell'ordine? No, più che no, loro sono imparentati, quindi magari sono coperti e hanno anche fatto, stampato cose per Forza Italia, forza anche all'azio nazionale. Quindi comunque hanno fatto questo scambio reciproco, ti faccio pagare la stampa, altre grandi cose. E magari non so che agevolazione avete, hanno potuto avere loro, coperture. AFA 81 di Dragoncello, si trova questa ditta. Che hai detto? AFA 81 e si trova Dragoncello, questa ditta qua. Ok, grazie a tutti. Prego. Grazie a tutti. Grazie a tutti.